Abbiamo una gran parte difficile, ci stava di perdere insomma, anzi diciamo che al di là di tutto le ragazze hanno fatto una grande prova, io sono contento per loro, si sono confrontati con una squadra di Serie A, forse oggi la più forte della Serie A, ma non solo, è una delle squadre che in Europa sta dando grande soddisfazione al campionato italiano, abbiamo cercato di contenerle per quello che potevamo, è normale che sapevamo quanto era difficile la partita, però abbiamo avuto la possibilità anche di vedere delle ragazze della primavera, sono contento per loro perché sono entrata, hanno fatto bene, sono andate da fare e questa forse è la cosa più bella. 3-0, 3-0 una partita di Coppa che chiaramente si è presentata come ci aspettavamo, quindi una Roma molto molto importante, una grande squadra, devo dire che però le ragazze si sono adoperate per diciamo difendersi. Sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, che avremmo subito e tanto, ci siamo difese bene, devo dire anche nel primo tempo, poi c'è stato l'episodio di rigore, vabbè ci sta tutto e il risultato è abbastanza positivo tutto sommato.